Ma ben trovati amanti dell'horror in questa nuovissima reaction a Parker e Chester dei Luxuri Dark Ma ora iniziamo perché c'ho già le mani che si stanno scaldando eh, signori In questo episodio Chester ha trovato un sito di incontri nel Dark Web E' più o meno il Tinder del Dark Web Non so cosa abbiano di diverso le persone su questo sito e quelle di un sito normale Ma Chester ha fatto un profilo Eeeh, dove non riesci nella realtà vai a provarci in altre zone Andremo a curiosare un po' in giro per cercare di accoppiare Chester E se siamo fortunati di fissargli un'uscita romantica Parker però ti rendi conto che far accoppiare Chester è un'impresa trimonicamente titanica? Peggio di far accoppiare i panda? Ci rendiamo conto di quello che stiamo volendo Diamo un'occhiata al sito Ehi, aspettate un secondo Che fotoprofilo ha messo quella best di Satana? Ok, quindi questo sembrerebbe il profilo Sembra che Chester abbia fatto un profilo in anticipo Ah, l'ha già sfruttato, eh? E non so da quanto tempo ce l'abbia Ma che immagini profilo hai usato? Bello! Non sembra nemmeno te nella vita vera Ma che ozzac stanno dicendo sti due trimoni? Ma andiamo avanti per l'amor del cielo che mi sto già inferfonando Hai tipo un filtro o qualcosa? Eeeh, cercavo solo di sembrare un tipo forte Quindi, come funziona il sito? Dai, che lo sappiamo, che lo sai Viene accoppiato con qualcuno che ha i tuoi stessi interessi O roba simile Bro, le persone possono svuapparti sia a sinistra che a destra E non hanno il tempo di capire la tua personalità Ma che ce ne fute? Ma che ci importa? Ragazzi! Non sono sicuro di cosa cerchino le persone nel sito Beh, è chiaramente un sito di incontri Basta, basta! È ora di finirla con queste porcherie Andiamo avanti ragazzi Voglio vedere quando arriva la tizia Bene, allora sembra che tu abbia un incontro SIEEE Cioè, la più buona del dark web hanno scelto Ragazzi, vedrete come verranno sbottigliati questi qui Oh, wow E ride Non so a cosa sta andando incontro Eh sì, non credo che sia questa ragazza Perché? Ma cosa ci fa sul dark web? Ma perché, scusate? Ma, mo, le rag... Cioè, sul dark web c'è la barriera all'entrata Vai giù Cosa dice la sua bio? Sono solo una bambola di cera Che vuole essere sciolta fino a quando il mio corpo non giace strappato violentemente sul pavimento Adesso con questa descrizione siamo tutti più tranquilli Non ha senso possiamo vedere le sue immagini per cortesia dai Guardiamoci le sue immagini guarda ti ha inviato un messaggio I You're a cutie Aspettate aspettate sento un formicolio Sento un formicolio nella mano destra Non ho mai detto di volerla incontrare Dice giustamente chester Quindi le dai il numero o no? Sì dai e dalle il mio numero Ma come chester birichino per te solo schiaffino Credo che ci sia qualcosa di veramente sbagliato in questa storia Ma dai non mi dire mi prude anche la mano sinistra In contemporanea con quella destra ragazzi qui stanno andando fuori di cotenna qua eh Trovare un'amica o una ragazza su un sito del genere nel dark web Vabbè dai le scrivo solo per un po' però eh Ok fai come vuoi Porca di schiaffone di terzo livello Due ore dopo Dai allarbiamoci un po' Ok la convinta a venire domani sera Credo che sia un'idea orribile Non credo che dovresti invitare questa sconosciuta a casa nostra Beh voglio solo vedere che personalità abbia Ma stai zitto che te la vuoi bombare Ma non d'asconderti sotto quegli occhiali da man in black Che non convinci nessuno Non lo trovi nemmeno un po' frettoloso? Che hai un appuntamento dal dark web L'hai vista bro non sembra una frettolosa Ma di che parli? Le persone normali non scrivono Quelle bio e tu vuoi quella persona a casa nostra Beh però effettivamente Parker non ha tutti i torti eh Chester continua a ridere Ma ridi che cosa ridi? A che ora arriva? Eh 10 alle 3 di mattina Maronne santissima Ma che persona si presenta ad un appuntamento alle 3 di mattina? Oh un'idea ce l'ho Una pazza scundernata? Ok è il tuo appuntamento Non voglio essere parte di questa situazione Parker se ne sta lavando le mani Non ne vuole sapere niente E secondo me è una bruttissima idea E non dovevamo invitarla Dai Parker dai E tiraglielo uno schiaffone così guarda tonico A solo accoglitori di olive Dai Ti assumi le responsabilità se le cose vanno male? Oh va molto dice Chester Vedi che te le meriti Va bene sono quasi le 12.30 di mattina E stiamo aspettando la ragazza di Chester Ehi non è la mia ragazza Sembra Natale nel dark web Dovrebbe arrivare tra un'ora circa Quindi stiamo qui a rilassarci E finalmente vedere questo incontro romantico Trimonico Tra Chester e la sciura Pazza Sicuramente pazza Sicuramente pazza Si sente bussare Ehi ehi E lei E lei E lei o non è lei Ma certo che è lei Vanno ad aprire Ehi Ehi Come va Parker Piacere di conoscerti Godo 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 come un riccio E' arrivata Natipa Completamente diversa dalle foto Vi sta bene Vi sta bene Godo 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 Mannaggia Sei avvicinata a Chester Coccolo In modalità coccolosa Ma stammi lontano Che non voglio ammalarmi Quindi tu sei Chester? Si Il piacere di conoscerti baby Esco dagli anni 30 Cosa? Ma che risate ha? Ma che problemi ha questa donna? Ma stiamo scherzando Ma stiamo dando i numeri Ok Possiamo sederci e parlare un po' Vorrei farti un po' di domande sul sito Ma le sbottiglia Ma le sbottiglia Ma le sbottiglia Sì Proprio lì Proprio lì Proprio lì ti devi sedere Puoi sederti lì Li dice Chester Indicando la poltrona opposta alla sua E lei dove si siede? Eh Vicino a Chester Ok quindi puoi dirci Perché sei un sito di incontri Sul dark web Ma che ciò l'ha o te ne frega Ma saranno caracazzi suoi Ma che lo sta carezzando Ma non ti devi permettere Non dire parolacce Cosa ti ha permesso di conoscere il dark web? Trovare il sito e le persone Continua Parker Che tanto che gliene fotte a lui Se Chester sta venendo praticamente Ma la tipa risponde solo alle domande che gli fa il trimone E Parker Manco la caga di striscio Così Aumentiamolo la sua La sua rabbia Mi vuoi baciare? Ma non vuoi finire con queste bagianate? Scusa ma Io Scusa Ehi amico Non la vuoi baciare? Chiede Parker Quel satanasso diabolico Diabolic Diabolic Mi ami? Chiede la sciura del dark web Eh Credo che tu Potresti essere una buona amica E credo che tu sia veramente una brava persona Ma Non ti amo Incredibile Chester zionata Oh Ti ho appena incontrato Gli dice Mosinghiana Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Va continua ragazzi Mo chiamo la polizia Monella Che fai? Che ti succede? Ma perché l'hai fatto? Perché lo sta facendo bro? Non è questo il modo di trattare le persone eh? La stanno sgridando ragazzi Tanto cosa volete? Avete comprato una ragazza fuori di testa L'avete fatta entrare in casa vostra Manca solo che andate a dormire E poi abbiamo fatto proprio l'unplane Quest'oggi L'unplane Ho sete Ma sai a me che me ne strafotte Ma è che hai sete? Get out of my house Subito Le porti dell'acqua? Gli chiede Parker a Chester Va bene Risponde E ciò lao Si alza E mo Mo spacca tutto Ok Questa è la tua acqua Dai andiamo avanti Per l'amor del cielo Ehi la miseria Oh Ma vedi di stare calma Che mi stai facendo inferocire eh? Ma come ti permette Buttare per terra le I bicchieri e le tazze? Ancora con queste hot sack Di risate demoniache Ma perché l'hai fatto? Perché hai rotto la tazza? Perché sei un trimone Chester? Vuoi che sia la tua cagnetta? Ecco Demonetizzazione incoming Cosa? Non dire parolacce che chiamo la polizia eh? Ma perché lo fai? No Non farlo No Ma che fai? È sporco Ma che succede? Ma fa schifo davvero Ma ecco dove è nato il corona di spine È ridicolo Puoi fermarti please? O devo chiamare veramente qualche Beh Sembra aver funzionato Dai Quindi ragazzi Praticamente quello che gli chiede Chester Lei fa Solo Chester Mmm Forse dovremmo semplicemente andare a letto Dì di no Chi è che l'ha detta sta stabbaggianata? Parker? Mmm Ok Andiamo Non ci credo Sono andati a letto Go to sleep No No Non ci posso credere davvero E allora Devo fare quest'ultimo sforzo Datevi tutti i vostri schiaffoni Sfera schiaffidama Porca miseria Ladra schifosa Voglio vedere l'editor cosa fa qua Ok Questa è la camera degli ospiti Per te Per stanotte Ok Ci vediamo domani mattina Ma speriamo che stanotte Viene nel tuo letto E di Ai Abbiamo provato a dormire Abbiamo provato a dormire È caduto anche il microfono Tanto che sei indignato Va 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 Tutto si sta bloccando adesso Ma la tipa continuava a far rumore Ma come a far rumore? Ok È tardissimo Mo sveglio Chester Perché la ragazza continua a fare casino Svegliati Svegliati Li dice Al trimone La tua ragazza continua a far rumore Da tutta la notte Vogliamo parlarne? O Qua cominciamo a Andare fuori di testa? Come ce ne liberiamo? Ma l'hai incontrata tu La responsabilità è tua Quindi vado su e le chiedo di andarsene E vai su e chiedele gentilmente di andarsene Che è la cosa migliore da fare Mandarla via prima no È troppo difficile Andiamo a dormire no? Poi domani mattina ci pensiamo E poi non dimentichiamoci che non è suo diritto Vivere in questa casa Va bene Andiamo a parlargli Quanta trimoneria a bordo Ehi non è qui È in camera tua Chester Ciolao È scappata Attenzione Attenzione adesso gli sbottiglia Eccola qua Sta piangendo Perché sei qui? Ehi quello è il mio telefono Che cosa stai facendo Ciolao? Chi è questa? No è pure gelosa Mai fare inghianare una donna O farle ingelosire Mai 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 Cosa? Ma che te ne frega? È mia cugina Gli risponde Chester Porca l'unità ha sgamato Sua cugina Chester A mo hai finito di fare lo sciupadores Questa ti strappa le pelotas Te lo dico io No 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 Ma che stai facendo? No No È la miseria Ha buttato il telefono contro il muro Oh mio dio ma perché l'hai fatto? No 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 Ma che problemi hai? A continuare a dire no 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 Devi andartene da casa mia Vattene Vattene subito No 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 Ma smettetela Ne ho abbastanza Vai via Porca bestia Parker si è incazzato Peggio di gargabella Oh Break the go Vai via che non sei di qui Vai via Ti dice E lei Piangendo scappa via Perché cosa devi fare Una trimona Le trimone Piangono in questo modo Bro Non ti ascolterò mai più Sono solo felici che se n'è andata E io invece Io invece sono triste Anche oggi Chester si è salvato da morte certa Si è salvato la vita Oh piano ragazzi Adesso si mettono a vedere le registrazioni Però andiamo avanti Facciamo in sveltezza In scioltezza Che qua sennò dura 40 minuti sto video Eccolo qui Il re dei trimoni Chi è che mi filma? È lei che ti filma Ciò la ho È la tipa di prima Giuri che non sei stato tu? Anico ti stava filmando Lo so che è difficile da credere Ma è così Non riesco a credere che fosse in camera mia Credi che mi abbia fatto qualcosa Mentre dormivo? Ma va Al massimo ti ha passato l'HIV Lo puoi vedere? È tutto filmato Non è un buon appuntamento Giusto? Tu che dici Parker? Ok basta basta Spendiamo le telecamere Che mi vergogno Va bene? Vabbè ragazzi Finisce così il video Scusatemi ma Devo andare immediatamente Sul dark web Per acquistare Un vaccino Contro la stupidità Di Chester Forse l'ho già acquistato in precedenza Non esiste? Allora devo acquistare Dei ricercatori Per il vaccino Della stupidità di Chester E Di Pixel Ok